Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, è terminata Lecce 0-1 il risultato finale, la partita tra Lecce e Sassuolo partita che è stata molto condizionata dal vento, questo senza dubbio molti cross sono stati sbagliati proprio per questo motivo e invece molte altre giocate sono state condizionate da errori individuali e secondo me è questo che ha pagato il Lecce principalmente nella partita di oggi tante tante scelte sbagliate, tanti cross sbagliati e ultimo ultimo passaggio sbagliato tra l'altro dicevano su Sky che quest'oggi a vedere la partita c'era anche c'era anche un osservatore dell'Atletico che aveva nel mirino un giocatore in particolare che è il Yulmand, un giocatore che oggi secondo me ha fatto una buonissima partita e che da tempo fa vedere delle cose assolutamente interessanti però ragazzi io credo che il Lecce di fatto abbia rischiato di più nel primo tempo che nel secondo e ha preso gol nel momento in cui era più in pieno controllo della partita, più in gestione e secondo me la sostituzione di Banda ha comunque inciso tanto perché comunque sia Banda nel primo tempo stava facendo la differenza lì sulla sinistra poi io lo continuo a dire è un giocatore che mi ricorda tanto Bogat è un giocatore che ha dei buonissimi piedi, è un giocatore che può inventare la giocata ma deve migliorare nella concretezza finale, ovvero nell'ultimo passaggio, nel cercare di conclusioni aveva cercato una rovesciata nel primo tempo che è finita alta e di molto è un giocatore che deve sgrezzarsi un po' però è un giocatore sicuramente interessante secondo me, vi dico, nel primo tempo non aveva neanche fatto male Gallo questo secondo me è un altro giocatore interessante che ha questa squadra poi nel secondo ha sbagliato troppo ha sbagliato troppi cross, troppi palloni buttati in mezzo che non sono mai arrivati in mezzo generalmente terminavano lunghi sul secondo palo ed erano imprendibili per chiunque è una partita che a Lecce costa tanto perché costa l'aggancio da parte dei neroverdi ai suoi danni infatti arrivano adesso tutte e due a 27 punti però io non ho visto una squadra in questa partita superiore all'altra ci sono stati momenti della partita l'occasione credo più importante del primo tempo l'aveva avuta Bayrami con una buonissima parata del portiere del Lecce ex Andoria e poi di fatto il Sassuolo è riuscito a sbloccarla su un piazzato con Torosvedt di testa e parebbe anche leggermente toccato da dire da Hulman e poi il Lecce ha avuto un'occasione clamorosa clamorosa con strefezza è un'occasione così onestamente non si può sciupare specialmente da uno come strefezza che viene da 7 gol in campionato un giocatore che questi errori difficilmente li commette poi ho visto che ha guardato il campo quindi mi viene il dubbio mi è venuto il dubbio onestamente che abbia avuto un problema d'appoggio però perché sennò non si spiega perché guarderei il campo onestamente però comunque sia un errore un errore troppo grave troppo grave tra l'altro del campo si è lamentato anche consigli a fine partita non è la prima volta che sento lamentarsi delle condizioni del manto erboso appunto dello stadio di via del mare dovrebbero cercare di provvedere in qualche maniera perché se si lamentano tutti evidentemente un problema alla base c'è e oggi oggi secondo me comunque il Sassuolo ha dato ha dato dimostrazione di di essere una squadra che comunque merita la Serie A Berardi a mio avviso nel primo tempo ha fatto bene e poi nel secondo tempo la partita si è in cattività un po' ragazzi si è diventata più nervosa ci sono stati più falli quindi secondo me ha perso un po' di bellezza rispetto al primo tempo ma questo è un mio gusto ovviamente personale e e oggi il Sassuolo si porta via tre punti nonostante l'assenza di un giocatore per loro importantissimo Lauriente è un giocatore che ho già allurgiato più volte è un giocatore che a me piace è un giocatore secondo me molto interessante e andare a Lecce e portarsi via tre punti senza un giocatore così comunque è una bella dimostrazione di forza perché andare a Lecce ragazzi a vincere non è assolutamente assolutamente facile però ripeto onestamente nel momento in cui ha fatto gol il Sassuolo non pensavo potesse arrivare non pensavo potesse arrivare questo gol quindi sono stati bravi a sfruttare un piazzato e sono stati di fatto più più concreti del Lecce che paga le sue scelte sbagliate quindi eccomi mi sarei aspettato un qualcosina di più sotto questo punto di vista perché poi secondo me il Lecce aveva interpretato comunque bene la partita e secondo me aveva fatto una buona partita aggiungo una cosa spesso si parla di difensori che valgono tanto che di qua che di là che giocano che bisogna saper giocare bene la palla eccetera quando si parla di Baschirotto non sento mai dire Baschirotto ha dei buoni piedi questo non lo sento mai dire e lo voglio dire oggi specialmente in una partita in cui Lecce ha perso perché mi sembra arrivato il momento che qualcuno lo dica perché io più e più volte ho visto Baschirotto fare lanci che terminano poi di fatto nei piedi del compagno sul petto del compagno comunque molto molto precisi quindi è un difensore secondo me di assoluta affidabilità e con dei buoni piedi e io come ho già detto su Twitch ragazzi c'è anche il link in descrizione per iscrivervi se volete io vorrei anzi voglio esigo Baschirotto in nazionale perché per me Baschirotto merita la nazionale più di altri giocatori quindi ecco lo sottolineo perché oltre a essere un difensore perché si dice sempre il grosso il bodybuilder tutte queste cose sì ma Baschirotto ha anche dei buonissimi piedi quindi è giusto sottolineare questo questo aspetto a mio avviso detto ciò i miei complimenti vanno comunque a Sassuolo perché si è portato via i tre punti e il Lecce ragazzi comunque fa vedere delle buonissime cose nonostante gli errori e nonostante i tre punti persi o comunque i punti persi sta facendo sta facendo una stagione a mio avviso incredibile quindi io sono sempre molto contento di vederla giocare specialmente quando gioca le partite in casa quindi detto ciò ragazzi vedremo cosa succederà nelle prossime partite e mi sono dedicato a dire quando parlavo di banda ora che mi viene in mente che io lo preferisco di gran lunga a Di Francesco secondo me banda se si sgrezza è un giocatore ragazzi veramente che può fare veramente la differenza quindi io cercherò di farlo giocare il più possibile proprio per cercare di 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 permettergli magari anche di acquistare quella fiducia permettergli magari di arrivare anche al gol fargli fare dei passi in avanti che secondo me può fare giocando con con costanza questa questa è la mia idea detto ciò ditemi voi cosa ne pensate io vi mando un forte abbraccio vi iscrivetevi al canale diffondete il verbo e ci vediamo qui domani sul mio canale con un nuovo video un forte abbraccio ciao a tutti grazie a tutti